Anche la live di questo venerdì 6 gennaio ha fatto scintille. Tra eccezionali giochi di squadra, azioni acrobatiche e scimmie volanti, lo spettacolo è stato assicurato. Vi ricordo che per partecipare vi basta entrare in una partita alle 21.30 del venerdì quando mi vedete online. Dato che ci sono sempre diverse decine di persone che vogliono partecipare e io non posso ricordarmi di chi ha giocato e chi no, vi propongo di assicurarvi un posto rispondendo al primo commento che ho scritto qui sotto al video, scrivendo il nome che usate sul PSN. Se contemporaneamente volete anche seguire la diretta da Twitch trovate il link in descrizione o anche dalla pagina principale di Youtube. Detto questo passiamo alla top dei highlights del venerdì live. Al decimo posto per aprire la classifica c'è Uberinho. Da dietro al muro, grazie ai sensi ninja affinati, percepisce il nemico e porta a casa una quadrupla kill. Al nono posto il proissimo, un Genji che deflette bene dapprima la granata stordente di McCree e infine anche la spirale della morte di Reaper. Fear James By all'ottavo posto è inarrestabile con Soldato 76, neppure lo stordimento lo ferma e conclude con una quadrupla kill. In settima posizione Scorpion MKY porta Reaper in una posizione vantaggiosa e attivando la spirale della morte miete tre vittime, tra i quali anche il sottoscritto. Grazie Scorpion! Al sesto posto il torbion di Henry Gamer controlla il piano alto delle industrie Volskaya impedendo l'accesso a chiunque. Sbeffeggiando gli avversari in quinta posizione, Handsome Jack fa piovere sulle loro teste la rotobomba che uccide istantaneamente tre avversari. Gli altri, feriti, seguiranno poco dopo. Torna Scorpion alla quarta posizione e guidando con maestria la rotobomba di Jankrat riesce a portarla dove vuole e a eliminare tre avversari conquistando il secondo highlight. Inizia il podio che dal gradino più basso vede il Traffi approfittare della bomba gradiente tonica per tagliare a pezzi gli avversari intrappolati senza l'autodistruzione avrebbe continuato. Medaglia d'argento per Frenchy Lollo che per un soffio fa solo tripla kill dall'alto della torre di Lijiang. Al primo posto, senza alcun rispetto per gli avversari, Dexo88 approfitta dell'aiuto di Reinhardt per scaricare l'arsenale sui nemici ancora sdraiati e bulla Rodog fino a costringerlo a suicidio. E anche per questo venerdì abbiamo un vincitore, ScorpionMKY, per lui copertina del video e pacata di crediti sul canale Twitch. Vi rinnovo l'appuntamento per il prossimo venerdì 13 gennaio ore 21.30 Twitch Uberigno TV. Per partecipare da PlayStation 4 mandate la richiesta di amicizia a Uberigno sul PSN e per iniziare a organizzare da PC, mandate la richiesta su Battle.net a Uberigno, hashtag 1732. Per oggi è tutto, ci vediamo presto, ciao a tutti!